Forza Italia e Lega? Facile no, difficile neanche. L'accordo era nell'aria, ma è nella storia. Governiamo con la Lega da 21 anni. Governiamo l'Italia, governiamo regioni centrali per l'Italia, come la Lombardia, il Piemonte, il Veneto. Quindi l'accordo è nella storia e sarà il futuro di Forza Italia e della Lega. Forza Italia forza centrale nel centro-destra, Lega, forza assolutamente centrale e fondamentale per vincere, quindi i nostri destini non possono che essere uniti. Forza Italia centrata all'interno del Partito Popolare Europeo, quindi Forza Italia europeista, Forza Italia liberale, Forza Italia catalizzatore del cambiamento. La Lega come forza federalista, come forza di rinnovamento territoriale, si tratterà adesso di costruire attraverso un cantiere programmatico il programma comune per le prossime elezioni politiche. Grazie. Grazie.